Preoccupata che il tuo capo abbia un amante? Per niente. Preoccupata che poche donne facciano carriera? No. Preoccupata per la cena di stasera con tua suocera? No, davvero. Preoccupata per la qualità dei tuoi floppy disk? No. Usa dischette 3M e non avrai più preoccupazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.